Prova a pensare anche solo per un attimo a come ci sentiamo bene quando il nostro cuore è limpido e pensiamo invece a quanto è sgradevole sentirsi sporchi dentro. Se siamo onesti con noi stessi sicuramente capiamo che la purezza di cuore non è semplicemente una virtù, non è una regola del catechismo, ma è qualcosa che determina ciò che siamo, la qualità della nostra vita e la qualità delle nostre relazioni con gli altri e con Dio. E capiamo che vale davvero la pena di chiedersi cosa significa avere un cuore puro e come possiamo riuscire a raggiungere la purezza di cuore. Ciao io sono Fra Stefano e insieme riflettiamo su questo sulla purezza di cuore. Al centro del Vangelo si trovano le beatitudine che da un certo punto di vista sono l'essenza del Vangelo stesso perché le beatitudini sono la buona notizia che Gesù ci ha annunciato ed è proprio al centro delle beatitudini la quinta beatitudine pronunciata da Gesù è questa Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. E noi capiamo subito che è la più importante non solo a motivo della sua collocazione ma perché ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre perché promette il premio più grande che è vedere Dio. La cosa più significativa essere puri di cuore come possiamo riuscirci? Probabilmente è un tema che nessuno di noi ha mai approfondito che ci crediate o no nemmeno a me che sono un frate un prete nessuno ha mai fatto un ritiro su questo argomento eppure è un tema stupendo e strettamente legato alla nostra vita. Pensate a quanto la nostra vita sia condizionata dal nostro cuore e dalla nostra purezza e quanto possa essere doloroso sentirsi indegni o inadeguati non solo a partecipare alla comunione ma perfino a pregare semplicemente perché percepiamo che la nostra vita è impura e credetemi si arriva perfino al punto in cui alcune persone e sono molte hanno abbandonato la fede a causa di questo senso di inadeguatezza ci si sente sporchi dentro e non ci si sente più amati da Dio si smette di pregare e ci si abbandona a una vita mondana riflettere sulla purezza di cuore è davvero qualcosa che può aiutarci a comprendere meglio noi stessi a vivere meglio la nostra fede e sicuramente migliora anche le nostre relazioni con gli altri ho conosciuto una volta un genitore che faceva perfino fatica a guardare negli occhi sua figlia perché si sentiva sporco dentro ma perché nessuno ne parla sapete perché non se ne parla perché è complesso perché tocca argomenti delicati e personali perché è facile cadere nella rigidità di chi si accontenta di ripetere le regole morali senza averle né comprese né vissute come d'altra parte accadeva anche ai tempi di gesù che rimproverava le guide religiose di israele dicendo guai anche a voi dottori della legge caricate sugli uomini pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito ma non vogliamo nemmeno cadere nella banalità di chi cerca di sdoganare la volgarità come se fosse qualcosa di naturale come se l'essere volgari fosse la nostra vera natura ma se avete voglia di riflettere insieme a me seguite questa riflessione fino alla fine e chissà che anche se magari non condividete tutto non è necessario essere d'accordo su tutto ma almeno vi sarà di aiuto per farvi una vostra opinione mi anticipo anche che ci saranno tre brevi interventi di Antonio Quaglietta uno psicologo che apprezzo e che ci aiuterà ad avere una visione a 360 gradi sulla purezza di cuore. Vogliamo parlare del cuore puro e cominciamo chiedendoci che cos'è questo cuore innanzitutto chiarifichiamo che il cuore è collocato qui e quindi non sono gli organi genitali potrebbe sembrare una battuta ma non lo è affatto molte persone probabilmente la maggior parte delle persone interpreta la purezza di cuore come qualcosa che si riferisce fondamentalmente alla sessualità forse perché in un certo linguaggio catechistico l'impurità è un sinonimo di oscenità basterebbe ricordare che il sesto comandamento che Mosè ha ricevuto da Dio e che possiamo trovare nella bibbia dice non commettere adulterio ma il sesto comandamento della chiesa cattolica che troviamo nel catechismo dice non commettere atti impuri legando quindi il concetto di purezza alla sfera sessuale e più avanti vedremo come la purezza sia effettivamente collegata alla sessualità a come viviamo la nostra affettività e a come la esprimiamo quindi è difficile se non impossibile avere un cuore puro mentre si porta avanti una vita affettiva e sessuale scombussolata ma sarebbe tuttavia un errore identificare la purezza di cuore con l'astinenza sessuale non è questo e allora torniamo al cuore puro cos'è il cuore al centro del nostro corpo umano c'è il cuore che è fondamentalmente un organo muscolare che serve per far circolare il sangue in tutto il nostro organismo dalla testa ai piedi il nostro cuore ha un ruolo centrale per la nostra vita ed è un grande lavoratore con più di 100.000 battiti ogni giorno e ogni giorno trasporta circa 8.000 litri di sangue 8 tonnellate di sangue al giorno è una cosa impressionante il lavoro che svolge questo piccolo organo che pesa solo tre etti ma queste informazioni erano completamente sconosciute nell'antichità ed è forse per questo che il cuore veniva identificato con il luogo della vita la sede dell'anima infatti la morte era una conseguenza del cuore che smetteva di battere se il cuore si ferma c'è la morte se il cuore batte c'è la vita allora il cuore è l'organo della vita molte attività della nostra mente non erano associate al funzionamento del cervello ma il cuore stesso per cui il cuore era considerato la sede non solo dei sentimenti ma anche del pensiero e della sapienza ora sappiamo che dal punto di vista medico le cose non stanno esattamente come si pensava una volta sappiamo che il cuore è un organo controllato dal cervello dal cervelletto sappiamo anche che il cuore batte indipendentemente dalla nostra volontà per cui non possiamo ordinare al cuore di fermarsi e infine sappiamo anche che le attività principali della nostra mente avvengono attraverso il funzionamento del cervello la nostra stanza dei bottoni si trova nella testa quello che però molti non sanno ancora oggi perché quando andavamo a scuola non lo avevano ancora scoperto è che le ricerche sul sistema nervoso hanno fatto passi in avanti e ormai da una quindicina di anni sappiamo che anche il cuore ha un piccolo cervello il cuore non è solo un muscolo ma un sistema nervoso e anche una sua intelligenza con un sistema neuronale capace di captare informazioni prendere decisioni apprendere ricordare produrre autonomamente ormoni e neurotrasmettitori che influenzano il corpo e la mente Che cosa significa tutto questo? Significa che il cuore funziona come un direttore d'orchestra che coordina e comunica con i vari sistemi del nostro corpo e anche con il cervello al punto che sono più le informazioni che il cuore invia al cervello di quelle che il cervello invia al cuore ed è vero che alcuni stati emotivi partono proprio dalle informazioni che il cuore invia al nostro cervello Noi facciamo fatica a comprendere queste cose perché siamo abituati a considerare la mente come se fosse un organo una cosa ma non è così la mente non è una cosa la mente è come l'anima come la coscienza come lo spirito non sono organi del corpo il cervello sia un organo ma non la mente non può essere localizzata a mio parere questa è una scoperta strepitosa e non lo dico perché cerco di trovare nella scienza una conferma a quello che diceva la bibbia l'importanza di questa scoperta è che ci introduce a una riflessione sulla purezza del cuore pensando al cuore in modo nuovo il cuore non è solo un muscolo e non è nemmeno semplicemente il simbolo dei nostri sentimenti o dei nostri pensieri il cuore è davvero al centro della nostra persona esiste davvero un sentire del cuore che si distingue dalle elaborazioni del cervello una percezione interiore che non è semplicemente il frutto della ragione come scrisse Pascal il cuore ha ragioni che la ragione non conosce cerchiamo adesso però di guardare al cuore non più da un punto di vista biologico ma dal punto di vista biblico nel mondo ebraico il cuore non aveva lo stesso significato che ha assunto nel mondo greco e nella nostra civiltà occidentale al tempo di Gesù il cuore indicava la capacità di pensare di riflettere e lo capiamo bene se consideriamo che quando si parla di un cuore indurito ci si riferisce a chi ha la testa dura a chi è ottuso a chi si ostina a non capire un cuore refrattario ha un cuore incapace di aprirsi alla sapienza all'amore di dio teniamo anche conto del fatto che nella bibbia non si parla solo del cuore umano ma anche del cuore di dio così come nel vangelo si parla del cuore di Gesù ma andiamo con ordine giusto per osservare che nelle sacre scritture il termine cuore compare molto spesso come poche altre parole è stata anche per me una sorpresa quando ho fatto una ricerca al computer per vedere quante volte compare la parola cuore nella bibbia circa mille volte in alcuni casi approssimativamente il 20 per cento delle volte la parola cuore è usata proprio per indicare fisicamente l'organo del cuore nel nostro torace ma nel restante 80 per cento dei casi è usato in senso metaforico per indicare una realtà più profonda a carattere spirituale forse conoscete anche voi quella canzone di chiesa che dice così dammi un cuore signore grande per amare perché per noi è così usiamo spesso il cuore come simbolo dell'amore e anche sui nostri telefonini possiamo mettere i cuoricini per indicare che amiamo qualcuno o qualcosa ma sentiamo cosa dice il libro del siracide a riguardo del cuore nel capitolo diciassettesimo il cuore diede loro perché ragionassero li riempì di dottrina e di intelligenza indicò loro anche il bene e il male pose lo sguardo nei loro cuori per mostrare loro la grandezza delle sue opere dunque nella bibbia il significato simbolico primario della parola cuore è quello di pensare conoscere comprendere sapere molto frequenti sono le espressioni i pensieri del cuore i consigli del cuore i disegni i progetti del cuore le vie del cuore questo uso simbolico della parola cuore è molto frequente anche nel nuovo testamento ad esempio l'evangelista marco parlando della guarigione del paralitico scrive seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro perché costui parla così bestemmia Gesù disse loro perché pensate così nei vostri cuori così nell'episodio dei discepoli di Emmaus Gesù dice sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti ossia i cuori senza intelligenza cuori lenti nella fede anche su questo punto torneremo più tardi ma voglio evidenziare fin da ora che il cuore è anche il luogo del credere Gesù ha detto tardi di cuore nel credere il luogo della fede della conoscenza e della coscienza ed è così che il profeta geremia può affermare porrò la mia legge nel loro animo la scriverò nel loro cuore non dovranno più istruirsi gli uni gli altri perché tutti mi conosceranno dice il signore un altro significato simbolico della parola cuore è quello del ricordo della memoria e forse non ci avete fatto caso ma la stessa parola ricordare contiene nella sua etimologia la parola cuore ricordare il cord di ricordare indica il cuore e anche in inglese in francese non si usa l'espressione imparare a memoria ma imparare col cuore e così faceva anche santa maria maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore un ulteriore significato simbolico della parola cuore è in riferimento ai sentimenti interiori dell'uomo è un ventaglio molto vasto che riguarda la gioia la sofferenza il bene il male la fiducia la disperazione il desiderio e la paura e l'amore e l'odio tutto questo viene percepito dal cuore e questa panoramica non sarebbe completa se non ricordassimo anche la preghiera quotidiana del popolo ebraico che è lo shema israel che poi è anche confluita nel vangelo nel primo e unico comandamento che gesù ci ha lasciato tu amerai il signore tuo dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore spesso nella bibbia il cuore rappresenta la persona nella sua interezza quindi i suoi aspetti più segreti pensieri sentimenti gli atteggiamenti intimi i desideri i progetti nascosti ed è per questo che solo dio è in grado di conoscere il cuore dell'uomo perché noi non potremo mai conoscere cosa si nasconde nella profondità di un'altra persona e nemmeno cosa si nasconde nella profondità di noi stessi e ora veniamo a noi ognuno di noi sente il cuore palpitare nel suo petto ognuno di noi sa che cosa vuol dire avere il cuore pieno di gioia o di tristezza essere ferito nel cuore e via dicendo ognuno di noi comprende immediatamente le parole di gesù nel vangelo dov'è il vostro tesoro la sarà anche il vostro cuore non solo nella bibbia ma anche per noi il cuore è il luogo dove si concentra tutto il nostro essere e la parte interiore di noi stessi dove si originano le nostre decisioni ultime e dove sono conservate le nostre esperienze decisive il mio cuore è dove sono di più me stesso con il mio nome la mia storia ciò che noi siamo veramente come persone non dipende da quello che possediamo da quello che mangiamo beviamo né da come ci vestiamo ma è dal cuore degli uomini che escono le intenzioni cattive fornicazioni furti omicidi adulteri cupidige è da quello stesso cuore che può uscire il bene è dal cuore che nasce l'ascolto della parola di dio e il proposito della conversione interiore se crederai con il cuore che dio ha risuscitato gesù dai morti sarai salvo con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia così scriveva san paolo in una lettera che possiamo sentire particolarmente rivolta a noi perché la lettera indirizzata ai romani cerchiamo ora di capire cosa sia la purezza ho trovato molto bella la definizione del vocabolario treccani che dice in modo semplice che puro è ciò che non contiene elementi estranei un'affermazione negativa nel senso che afferma ciò che è una cosa dicendoti cosa non è puro è ciò che non è impuro puro è ciò che non contiene elementi estranei nel caso del cuore potremmo dire che avere il cuore puro significa non avere un cuore torbido non avere nel cuore elementi che ci snaturano che non esprimono la verità di noi stessi una memoria che non alteri i ricordi una mente lucida che non sia immersa nelle contraddizioni una luce interiore che si apriva di tenebre un amore che non contenga tracce di egoismo e di odio potremmo sintetizzare dicendo che il cuore puro esprime la verità di noi stessi la verità di una persona è il suo cuore se il tuo cuore è nella verità tutta la tua persona è nella verità tutto è amore ma quando una persona ha un cuore torbido impuro tutta la persona si trova in una condizione di impurità di falsità nell'antico testamento troviamo un passo molto bello in cui il profeta samuele passa in rassegna i figli di Iesse per consacrare colui che poi sarebbe diventato il re di israele al profeta vengono presentati uno dopo l'altro tutti i figli tutti i bei ragazzi alti e forti ma dio impedisce a samuele di consacrarli finché non torna dai campi il più piccolino che era a pascolare il greggio e dio dice al profeta di consacrare proprio questo ragazzi ragazzino che poi divenne il re davide ma in quel momento nessuno avrebbe creduto che quel ragazzino sarebbe diventato il più grande re e la bibbia ci spiega il perché di quella scelta perché l'uomo guarda alle apparenze ma dio guarda al cuore nessuno conosce il cuore dell'uomo se non dio non solo noi non siamo in grado di leggere nel cuore degli altri ma non siamo nemmeno capaci di conoscere il nostro cuore fino in fondo di sicuro è vero che ci sono alcune cose del nostro cuore che conosciamo solo noi ma è anche vero che ci sono alcuni aspetti di noi stessi che noi non conosciamo che magari solo gli altri riescono a cogliere dall'esterno alcune qualità del cuore di una persona sono evidenti e si manifestano dai gesti dalle parole ma altre qualità possono anche essere dissimulate o nascoste siamo sempre quindi nella possibilità di ingannarci o di essere ingannati sulla verità del prossimo potendo scorgere noi solo le apparenze queste caratteristiche del cuore fanno sì che si presti ad essere quasi come una cassaforte un luogo in cui possiamo nascondere i nostri beni più preziosi ma anche i documenti che potrebbero comprometterci per essere puri di cuore necessario accettare la verità di noi stessi e questo non solo non è facile ma potrebbe anche sembrare perfino sbagliato in modo particolare a chi si sente sporco a chi fa schifo a se stesso e scusate se uso una parola così forte ma è la verità alcune persone odiano se stesse e non vogliono in alcun modo sentirsi dire che devono accettarsi così come sono viceversa ci sono altre persone che sono troppo ancorate all'accettazione di se stesse e diventa per loro una scusa per continuare a vivere sempre allo stesso modo per non cambiare per far diventare i loro vizi quasi una seconda natura e sicuramente è capitato a tutti di sentire qualcuno che si difende dalle proprie regolatezze affermando io sono fatto così questo è il mio carattere non è colpa mia se questi sono i miei sentimenti e altre frasi dello stesso genere che diventano come dei rifugi per non assumersi la responsabilità di dare una direzione alla propria vita allora è necessario chiarire che accettare se stessi non significa che dobbiamo fossilizzarci nei nostri errori e anche se siamo stati bravi non possiamo chiuderci in noi stessi e nel nostro passato accettare la verità di noi stessi significa leggere con onestà il nostro passato senza giudizi ma semplicemente accettandolo per quello che è e scusatemi se insisto su questo punto ma è davvero importante basterebbe pensare alla cosa che più dà fastidio a gesù nel comportamento religioso degli scribi e dei farisei sapete rispondere a questa domanda qual è il grande peccato dei farisei non è l'impurità sessuale ma è l'ipocrisia e la finzione e avere la doppiezza di cuore mantenere un distacco tra quello che siamo veramente dentro in noi e il modo in cui vogliamo apparire di fronte agli altri questo è avere un cuore impuro e vivere nell'ambiguità voi farisei pulite l'esterno del bicchiere del piatto ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria stolti colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro ed ecco per voi tutto sarà puro se vogliamo avere un cuore puro diamo in elemosina quello che c'è nel nostro cuore apriamo la cassaforte del nostro cuore e lasciamo che venga saccheggiato non dobbiamo temere che venga alla luce la verità di ciò che siamo perché solo la verità potrà renderci liberi e puri e questo mi fa tornare alla mente anche quel passo del Vangelo in cui Gesù ci dice che se non diventeremo come i bambini non entreremo nel regno di Dio e infatti sono proprio loro i bambini ad essere per noi un esempio di come si può avere un cuore puro per i bambini il cuore non è una cassaforte non ci sono tesori da trattenere egoisticamente né documenti compromettenti da nascondere il loro cuore è così trasparente così la purezza di cuore non ci viene proposta come una condizione statica di immobilità ma una dinamica di cambiamento qualcosa a cui tendere qualcosa a cui aspirare diventiamo come i bambini diventiamo puri di cuore impariamo ad accettare la verità di noi stessi per muovere passi in avanti ascoltando la nostra vocazione imparando a diventare ciò che siamo chiamati ad essere accettare noi stessi non significa solo accettare ciò che siamo in questo momento ma anche saper riconoscere qual è il prossimo passo da fare per portare a compimento la nostra vita e adesso è arrivato il momento di citare questo bellissimo passo della lettera di san paolo agli efesini benedetto dio che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in cristo in lui ci ha scelti per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità questa è la grandezza della nostra vocazione e non mi riferisco alla vocazione religiosa ma la vocazione di ogni discepolo di Gesù di ogni tempo essere santi e immacolati nella carità siamo anche chiamati alla santità e alla purezza ma qui san paolo aggiunge un dettaglio molto importante ci dice di essere immacolati nella carità ovvero nell'amore e questo ci aiuta a capire meglio anche il modo in cui la madonna è la santa e immacolata per eccellenza questo non significa che santa maria non abbia mai commesso un errore o che non abbia mai alzato la voce con Gesù o che sapesse già ogni cosa fin dal principio lei è santa e immacolata nell'amore vale a dire che ha fatto ogni cosa per amore e non ha fatto nulla per cattiveria o con malizia vuol dire che ha conservato la purezza della sua coscienza ed ha ascoltato la voce di dio che parlava dentro di lei ed ha conservato quelle parole meditandole nel suo cuore il cuore infatti si purifica mentre medita la parola di dio ma come santa maria così potremmo ricordare moltissimi altri santi e sante vorrei solo accennare alle stupende riflessioni di santa teresa d'avila che possiamo trovare nel cammino di perfezione e nel castello interiore dove viene tracciato un vero e proprio itinerario spirituale che passa attraverso la preghiera e la contemplazione per giungere all'incontro con dio che abita proprio nella stanza più segreta di questo castello interiore che è il nostro cuore ma se essere puri di cuore significa ritornare all'innocenza dei bambini questo non significa che sia facile riuscirci non è un gioco da bambini anzi è probabilmente la meta più alta che una persona possa darsi quello che infatti nei bambini è spontaneo in noi adulti è una scelta consapevole che richiede una grande forza interiore perché l'essere puri ci rende vulnerabili e ci spone a molti rischi gesù nel vangelo ci dice di essere semplici come le colombe e prudenti come i serpenti e io associerei la semplicità delle colombe alla purezza di cuore e alla povertà di spirito perché sono forme di libertà e di semplicità interiore che devono sempre essere accompagnate dalla prudenza siate prudenti come i serpenti per non soccombere di fronte alle prove della vita e ai molti approfittatori che circolano per le nostre città la purezza di cuore ha molti nemici alcuni sono esteriori altri interiori il primo nemico esteriore è la cultura del nostro tempo e in modo particolare proprio la cultura occidentale che è oltremodo volgare e grossolana e soprattutto i giovani che non hanno ancora formato la loro identità in modo forte sono esposti a tutto il peso di questa società che cerca di demolire la purezza la purezza è considerata un segno di disadattamento qualcosa di cui vergognarsi qualcosa di cui sbarazzarsi per guadagnare la stima altrui ed è semplice capire perché la società propone questi modelli di vita fa più comodo avere delle persone che si adattano al sistema che avere persone che cercano di essere se stesse il rinunciare a se stessi è funzionale all'ingresso nella società degli adulti ed è così che progressivamente tutti noi ci siamo adattati a vivere nella doppiezza e a portare una maschera esteriore che si discosta da quello che siamo dentro nascondendo all'interno quello che la società non vuole sentirsi dire ed è difficile tornare indietro perché più strada si fa in questa direzione più non si sa nemmeno da dove ricominciare e quando Gesù ci insegna che chi non rinuncia a se stesso non può essere suo discepolo si riferisce a questo se non rinunciamo a questa maschera sociale e a tutti i benefici che comporta avere questa maschera non possiamo essere suoi discepoli infatti a cosa ti giova a guadagnare il mondo intero se poi perdi te stesso se poi se perdi ciò che tu sei veramente chiamato ad essere se perdi la tua purezza di cuore ma non diamo tutta la colpa alla società e come dice san giacomo da dove vengono le guerre le liti che sono in mezzo a voi non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra siete pieni di desideri e non riuscite a possedere uccidete siete invidiosi e non riuscite a ottenere combattete e fate guerra non avete perché non chiedete chiedete e non ottenete perché chiedete male per soddisfare cioè le vostre passioni davvero molto bella questa espressione di giacomo che dice le passioni fanno guerra nelle vostre membra e giustamente evidenzia che le passioni non risiedono nei nostri pensieri non sono un problema dei ragionamenti ma sono legati invece alla nostra persona nella sua interezza giacomo dà la colpa alle passioni ma sia chiaro che le sue parole sono parole appassionate è una cosa buona avere passioni non dobbiamo essere apatici qui il problema risiede nell'avere passioni che si scontrano con la verità di noi stessi passioni che ci trascinano contro la verità iscritta nel nostro corpo nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri il nostro cuore è dimora dello spirito santo e non deve essere invaso dalle passioni del mondo noi siamo una parola scritta da dio e il primo modo per tradire dio e tradire la nostra coscienza è per questo che un cuore puro non può vedere dio perché il cuore impuro è proprio quel cuore che ha rinunciato ad ascoltare dio e troviamo conferma di questo anche nell'insegnamento della chiesa che dice nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi ma alla quale invece deve obbedire questa voce che lo chiama sempre ad amare a fare il bene e a fuggire il male al momento opportuno risuona nell'intimità del suo cuore fa questo evita quest'altro l'uomo ha una legge scritta da dio dentro al cuore obbedire a questa legge è la dignità stessa dell'uomo e secondo questo egli sarà giudicato la coscienza è il nucleo più segreto è il sacrario dell'uomo dove egli è solo con dio la cui voce risuona nell'intimità nella fedeltà alla coscienza noi cristiani ci uniamo agli altri uomini per cercare la verità ecco che la purezza di cuore innanzitutto purezza di coscienza e si raggiunge quando ci liberiamo con la grazia di dio da tutte quelle scorie che ci impediscono di ascoltare la verità che dio pronuncia dentro di noi ma siccome voglio affrontare bene questo tema qui apro un'altra parentesi infatti non dimentichiamoci che noi non siamo pienamente padroni di noi stessi in noi ci sono sentimenti buoni ma ci sono anche quelli cattivi ci sono aspetti della nostra interiorità che possiamo controllare con la forza di volontà e altri che possiamo risanare con la grazia di dio ma infine ce ne sono altri ancora che sfuggono al nostro controllo insomma finché vivremo saremo soggetti tentazioni troveremo sempre dentro di noi alcune forze che ci spingono nella direzione sbagliata e allora che fare come prima cosa riconosciamo che non siamo dei monoliti dentro di noi non ci sarà mai unità solida e compatta come un pezzo di metallo fuso non è così dentro di noi è come se ci fosse un'orchestra con tanti strumenti e diversi temperamenti l'unità interiore non si raggiunge quando rimane un solo strumento e suona solo quello ma quando si riesce a comporre una sinfonia interiore quando ogni strumento riesce ad esprimere il meglio di sé e tutti i suoni si fondono in modo armonico noi siamo direttori d'orchestra della nostra vita interiore e la purezza non si raggiunge sopprimendo ciò che non ci piace ma innanzitutto ascoltando le voci interiori e poi imparando a integrarle nel tutto della nostra persona in modo armonico all'inizio avevo detto che la nostra purezza di cuore non deve essere identificata con l'astinenza sessuale sono due cose diverse penso che adesso sia chiaro a tutti questo punto ma ora vorrei anche ricordare che la sessualità ha un ruolo importantissimo nella nostra vita e qui ho chiesto aiuto ad Antonio Quaglietta che è uno psicologo e quindi è in grado di darci una panoramica che non parte dalla morale cristiana ma dalla conoscenza scientifica ciao Antonio grazie per aver accettato l'invito ad essere qui con noi per piacere potresti aiutarci a capire come mai il modo in cui viviamo la sessualità è così importante per il nostro benessere psicofisico ciao fra Stefano provo a rispondere brevemente alla tua domanda che è una domanda complessa ovviamente è però una domanda fondamentale per gli esseri umani perché il modo in cui viviamo la sessualità è così importante per il nostro benessere psicofisico allora partiamo da questo l'esperienza sessuale è l'esperienza relazionale più completa l'esperienza comunicativa più completa che abbiamo se e in quanto riguarda tutti i livelli cioè il livello fisico il livello emotivo il livello mentale il livello dei sentimenti e il livello spirituale quindi in base a quanti livelli noi riusciamo a vivere pienamente a soddisfare questo dipende già da quanto noi siamo integrati come persone riusciamo a fare di quell'esperienza un'esperienza che può essere veramente di estasi e di raggiungimento della felicità che è qualcosa di diverso dal piacere fisico perché appunto siamo allineati all'altra persona anche a livello emotivo sentimentale e questo gesto è un gesto che trasferisce crea amore un altro aspetto è l'aspetto simbolico dell'esperienza sessuale che la l'aspirazione a unirsi a un'altra persona quindi ad aprirsi totalmente un'altra persona farsi conoscere conoscere l'altra persona ecco perché quando la sessualità purtroppo viene ridotta a un puro atto meccanico e fisico e non c'è l'apertura all'altro può diventare una delle esperienze più frustranti spesso aride perché diventa un'esperienza molto egoica molto egocentrata cioè io inseguo il mio piacere e utilizzo molti dicono sfrutto strumentalizzo l'altro per un semplice piacere egoico personale e l'altra persona quasi non la vedo finisco dicendo questo ma ci sarebbe veramente tantissimo da dire che se vogliamo capire quanto noi siamo davvero aperti nelle relazioni possiamo vedere come viviamo la sessualità più nella sessualità ci sono tabù inibizioni più ci sono dei blocchi e più quello ci dà un'idea di quanto siamo bloccati nella relazione vera con l'altro perché ripeto la sessualità è l'esperienza relazionale più istintiva e anche più completa e complessa quindi un buon consiglio è vedere come viviamo la sessualità per capire i nostri blocchi interni a livello relazionale anche psichico spero che questa breve risposta possa dare degli spunti utili a tutti grazie davvero interessante e quindi importante se vogliamo trovare una stabilità interiore avere stabilità nei nostri affetti nei nostri sentimenti e nel modo in cui viviamo la sessualità interessante anche osservare che non solo il disordine il disequilibrio interiore si ripercuote in una sessualità vissuta male ma Antonio ci ha anche suggerito l'idea che da una sessualità vissuta male possiamo risalire ai nostri blocchi interni quindi qui il problema non è quello di giudicare o di condannare quegli aspetti della sessualità che turbano il nostro cuore dobbiamo invece cercare di leggerli o di interpretarli con pazienza con amore cercando di sciogliere i blocchi e di guarire le ferite alcune persone pensano che essere puri significhi vivere come gli angeli ma in questo si sbagliano grandemente la purezza di un uomo consiste nel vivere da uomo e non da angelo noi non siamo angeli e nessuno ci chiede di vivere da angeli non siamo nemmeno come gli altri animali noi siamo esseri umani l'avere una carne e tutte le conseguenze legate all'avere questo nostro corpo non è un peccato questa è anche la grandezza e l'unicità della nostra fede Dio si è fatto uomo ed ha avuto un corpo proprio come noi non è un peccato avere un corpo mi raccomando non cercate la purezza negando la verità del vostro corpo perché non è questa la purezza inoltre finireste per fare dei grossi danni perché le nostre pulsioni se non trovano un modo ordinato per esprimersi finiranno per esplodere in modo disordinato ma noi non siamo fatti di sola carne e di pulsioni fisiche ecco perché se ci accontentassimo di vivere come gli altri animali finiremmo con l'essere profondamente delusi di noi stessi infelici ma vorrei approfittare della presenza di Antonio per tornare su un punto chiave della purezza di cuore e sempre dal punto di vista psicologico abbiamo infatti visto come la purezza sia legata alla coerenza interiore uno è puro quando non si lascia inquinare da elementi esterni però è anche vero che una persona cresce all'interno di una società che ci dona molto ma che chiede anche qualcosa in cambio questa è la domanda vale la pena essere se stessi anche se questo comporta l'essere esclusi dal gruppo questa è un'altra ottima e complessa domanda vale la pena essere se stessi anche se questo comporta l'essere esclusi quindi purezza di cuore come coerenza interiore coerenza interna allora qui chiarirei subito una cosa dobbiamo capirci su un significato di essere se stessi perché se essere se stessi lo intendiamo come spontaneismo tutto ciò che mi viene spontaneo fare io faccio così sono pienamente me stesso rischiamo di essere sulla strada sbagliata faccio degli esempi se io ho delle reattività quindi delle reazioni automatiche che fanno stare male sia a me sia agli altri quindi perdo la pazienza e dopo me ne pento oppure reagisco punisco gli altri con il silenzio con l'allontanamento quando non mi va bene ciò che fanno e questo fa stare male me perché mi allontano e fa stare male gli altri però su queste cose dobbiamo lavorarci perché dire io sono fatto così e subirle continuare a soffrire a far soffrire non essere se stessi quello e non prendersi cura di se stessi perché sono tutte cose su cui possiamo lavorare e migliorare per stare bene noi e gli altri chiarito questo se invece per essere se stessi noi intendiamo esprimere e realizzare i nostri valori i nostri sentimenti più alti le nostre aspirazioni in questo caso sì la coerenza interna è molto importante vale la pena essere esclusi o anche scegliere di allontanarsi da chi non permette questo perché molto spesso il prezzo da pagare per essere in una relazione a due o in un gruppo è quello di dover soffocare le proprie aspirazioni le proprie idee i propri valori ed è un prezzo troppo alto da pagare cioè ogni volta che noi per dire sì agli altri quindi per essere inclusi per sentire di appartenere a un gruppo in una relazione se per dire sì agli altri diciamo no a noi stessi la paghiamo con malessere spesso profondo quindi cerchiamo dei gruppi e delle appartenenze che ci permettano di essere ed esprimere le nostre migliori aspirazioni i nostri migliori valori in questo caso concludo possiamo dire che addirittura farsi escludere o scegliere di escludersi per non abbandonare la piena espressione dei propri valori può essere un segno di alta maturità emotiva e psichica spero che siano spunti interessanti vedete com'è importante ricevere degli spunti esterni infatti Antonio ha subito fatto una distinzione sostanziale una cosa è lo spontaneismo inseguire tutto ciò che mi viene spontaneo istintivo altra cosa è essere se stessi ed è effettivamente così vediamo che è proprio questo un punto che può generare confusione quando si confonde l'essere istintuali con l'essere se stessi non so se vi ricordate di ciò che Gesù diceva ai suoi discepoli state attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni ubriachezze affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso e quindi è evidente che c'è qualcosa di noi che va accolto e qualcosa che va rifiutato perché in noi c'è un dialogo interiore ed è giusto che ci sia non potrebbe essere altrimenti perché questa è la struttura del nostro modo di pensare e noi cresciamo e prendiamo decisioni attraverso questo dialogo interiore in cui si confrontano voci opposte e noi dobbiamo capire quali vanno ascoltate e quali no allora battiamo il ferro finché è caldo con un'ultima domanda ad Antonio per capire ancora meglio il suo punto di vista su questo argomento e questa volta ti chiedo secondo te cos'è la purezza di cuore e come possiamo raggiungerla che cos'è per me la purezza di cuore come raggiungerla bella domanda per me avere un cuore puro significa avere benessere psichico e relazionale cioè io sto bene con me e sto bene nelle relazioni con gli altri questo è un po per me la la cartina al tornasole un po la misura della purezza di cuore perché il nostro cuore ci spinge alla relazione con l'altro che non è una relazione idilliaca sempre bella sempre piatta ma è una relazione in cui io voglio stare e soprattutto tendo a voler fare il meglio per me e per gli altri però attenzione per me e per gli altri ecco a differenza della mente che divide in due la mente è sempre lavora sempre per opposti il cuore lavora in maniera sistemica cioè cerca l'amore per sé e l'amore per gli altri come raggiungerlo e qui direi che ci vogliono piccoli e fondamentali passaggi e il primo in assoluto è iniziare a riconoscere di avere un cuore che sembra scontato ma non lo è vuol dire iniziare a fermare un po il frastuono della mente e a riconoscere la voce del cuore perché è una voce interiore molto diversa la mente urla la mente separa la mente divide la mente vuole aver ragione invece il cuore è una voce molto più sottile molto più pacata che però ripeto ci spinge verso l'altro e ci spinge a guardarci dentro altra cosa importante quando iniziamo a placare un po le urla della mente ad ascoltare il cuore è distinguere anche la voce del giudice interno che condanna solo ogni cosa che è sbagliata secondo lui dalla voce del cuore che invece accoglie cerca di comprendere cerca di capire cerca di superare di fronte a un nostro errore di fronte a qualcosa che non ci piace di noi il nostro giudice interno ci fa sentire solo in colpa sbagliati condanna basta mentre il cuore ci dice c'è una strada questo è un indizio puoi migliorare puoi fare qualcosa di migliore per te per gli altri cerca soluzioni non ci fa sentire in colpa non ci fa sentire sbagliati ma ci fa sentire in cammino e questo è un altro passo fondamentale poi il terzo passo direi che chiedersi più spesso possibile qual è il nostro vero intento perché in ogni azione noi mettiamo sia la voglia di aver ragione sia le pretese verso gli altri sia le accuse verso gli altri sia le migliori intenzioni del cuore sono sono un po confuse quindi imparare un po a dividere chiedermi io sto facendo questa cosa qual è il mio scopo iniziare a vedere tutte le varie voci che parlano e a distinguere anche quella del cuore che di solito ha un'intenzione più pura delle altre senza condannare le altre vedendole direi sinteticamente che questi sono i passi necessari per fare un lavoro di purificazione del cuore perché è un lavoro che dura una vita spero che anche questi siano spunti interessanti ora siamo pronti per fare l'ultimo passo che è il ruolo della grazia di Dio per essere puri di cuore per la purezza di cuore è essenziale avere la grazia di Dio senza di non riusciremmo a raggiungere la purezza e non riusciremmo a conservarla e poi proviamo a immaginare al cuore come a una stanza interna tutta pulita e adorna a cosa servirebbe avere una stanza così bella se poi non vi entrasse la luce non serve avere un cuore puro tanto per la soddisfazione di averlo puro ma la purezza è funzionale ha la possibilità di vedere e di accogliere Dio certo tutti noi abbiamo ricevuto il battesimo e siamo stati immersi nell'amore di Dio che ci ha purificati ci ha liberati dal potere delle tenebre ci ha donato lo spirito santo ha messo in noi il germe della vita eterna questi sono i doni che Gesù Cristo ha conquistato per noi ma è necessario che il nostro battesimo giunga a compimento in questo difficile e incerto cammino che è la vita Gesù continua a venire in nostro soccorso e in primo luogo con i sacramenti e in particolare penso al sacramento della riconciliazione come momento di grazia che purifica i nostri cuori e certo anche l'eucarestia questo è il calice del mio sangue della nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me ma anche la preghiera le opere di carità e ogni manifestazione di amore ci riconcilia con Dio e purifica i nostri cuori la carità copre la moltitudine dei peccati noi cerchiamo la verità la trasparenza di noi stessi per poter essere puri di cuore ma il fine ultimo è scorgere la presenza di Dio nel mondo e nelle persone che ci circondano abbiamo cominciato dicendo che il cuore al centro del nostro corpo ed è vero e ora abbiamo anche capito che il cuore guarda verso l'esterno il cuore ci apre alle relazioni ci apre all'amore la ricerca di un cuore puro non è solo un lavoro introspettivo ma è anche la nostra propensione naturale a cercare relazioni autentiche di pace e di amore spero proprio che questa riflessione possa esserti stata d'aiuto nella comprensione di te stesso e se ti fa piacere potrai riascoltarla o condividerla lascia pure un commento e se non l'hai ancora fatto schiaccia il pulsante iscriviti per rafforzare questo nostro canale un carissimo saluto e abbi cura di te ciao ciao è stato bravo Beppi cosa dite